Sono passati due mesi della presentazione della scheda tecnica e adesso si arriva a quello che è il confronto con il mercato. Ennebic si appresta a fare il grande passo. Sì, andiamo veramente nella fase più delicata perché ora noi come parti pubbliche abbiamo cercato di fare del nostro meglio per rendere il più possibile accurata l'offerta da parte di potenziali investitori sul compendio di Ennebic. L'abbiamo fatto con riferimento al vincolo della sovrintendenza, alle possibilità di intervenire, all'aggiornamento della perizia statica, alle modifiche delle destinazioni d'uso. Abbiamo lasciato quattro mesi per formulare la proposta perché ci rendiamo conto che sono circa 45.000 metri quadrati da sfruttare e quindi probabilmente la complessità e la moltiplicità delle destinazioni d'uso costringerà gli offerenti a creare anche dei raggruppamenti di impresa. Quindi ci sarà bisogno di questo tempo per avere le offerte. Abbiamo anche definito i principali elementi come la durata di 90 anni della concessione, del canone. Insomma, ci pare di aver fatto un lavoro accurato. Ora vediamo come sarà il dialogo con il mercato. Anche perché la ristrutturazione di Ennebic potrebbe essere il primo punto di una possibile candidatura di Genova per un futuro export. Sì, questa è una cosa che il Sindaco e il Presidente della Regione l'hanno lanciata. Io penso che Genova, proprio dalla tragedia dello scorso anno, tutto quello che sta facendo potrebbe costituire la base di partenza per una candidatura. Di solito quando si fa una candidatura di un grande evento si pensa anche a quali interventi realizzare per rendere possibile l'evento. Molti di questi interventi Genova li sta facendo. Li sta facendo per uscire da una situazione emergenziale. Sarebbe bello poterli considerare una fase antecedente alla formalizzazione di una candidatura. Un primo confronto con i mercati, l'avevate avuto al Mipindicam. Cosa potrebbe diventare Ennebic? Io penso che Ennebic sia veramente la porta d'ingresso dal mare di Genova. Tutte le volte che lo si vede dal mare è veramente suggestivo. A me torna sempre in mente quell'immagine di quell'investitore americano che a Cannes mi ha detto è un grattacielo sdraiato. Ma è vero, è un unicum da questo punto di vista. Al suo interno, come minimo, convivranno una destinazione ricettiva, può essere alberghiero, una destinazione commerciale e una destinazione direzionale. Uffici, pubblici e privati. Quindi sicuramente un centro vivo, molto vivo, che riqualificherà quella parte della città e, come ho detto prima, la porta dal mare.